O Dio vieni a salvarmi, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, Misteri della Luce, meditati con gli scritti tratti dal Libro di Cielo della Serva di Dio Luisa Piccarreta, piccola figlia della Divina Volontà. Primo Mistero della Luce. Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Quando la Divina Volontà regna nell'anima come sua propria vita, battezzando ogni fibra del suo essere, ella viene a possedere la stessa fonte della grazia e a vivere di vita divina. E quella stessa volontà divina, che ha il potere di purificare, di battezzare, di generare vita divina, diviene la volontà propria dell'anima. Ti raccomando, non uscire da dentro della mia volontà, perché la mia volontà contiene tale potenza da essere un nuovo battesimo per l'anima, dice Gesù. Anzi, più dello stesso battesimo, perché nei sacramenti c'è parte della mia grazia. Nella mia volontà c'è tutta la pienezza. Nel battesimo si toglie la macchia del peccato originale, ma rimangono le passioni, le debolezze. Nella mia volontà, distruggendo l'anima e il proprio volere, distrugge le passioni, le debolezze e tutto ciò che è umano. E vive delle virtù, della fortezza e di tutte le qualità divine. Pater Noster qui es in Cielis, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Paneo nostro in quotidiano, da novi soli, et dimite nobis debita nostra, sicute et nostri mitimus debitoribus nostris, ete ne nos inducas in tentazione, e se vi libera la nostra mano. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, ma per Dei, ma per nobis peccatoricus, o che di noi a mortis nostri, gloria, Patria, Figlio e Spiritui Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedictus fruttus ventris tu, Iesus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Limite nobis tecum, benedictus fruttus ventris tu, Iesus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Secondo me, le nozze di Cana. Il dono della Divina Volontà è il vino più prezioso e predivato che il padrone di casa, nostro Dio e Padre, conserva per ultimo, con meraviglia e diletto, dei figli suoi invitati alle nozze dell'agnello. Dice Maria, fate ciò che vi dice mio figlio ed avrete ciò che volete, anzi avrete il di più e sovrabbondante. In queste parole io davo una lezione, la più utile, necessaria e sublime alla creatura. Io parlavo col cuore di madre e dicevo loro, figli miei, volete essere santi? Fate la volontà di mio figlio, non vi spostate da ciò che lui vi dice e avrete la sua somiglianza, la sua santità in vostro potere. Volete che tutti i mali dicessino? Fate ciò che vi dice mio figlio. Volete qualunque grazia, anche difficile? Fate ciò che vi dice e vuole. Volete anche le cose necessarie della vita naturale? Fate ciò che dice mio figlio. Perché nelle sue parole, in ciò che vi dice e vuole, tiene racchiusa tale potenza che, come parla, la sua parola racchiude ciò che chiedete e fa sorgere nelle anime vostre le grazie che volete. Quanti si vedono pieni di passioni, deboli, afflitti, sventurati, miserabili, eppure pregano e pregano. Ma poiché non fanno ciò che dice mio figlio, nulla ottengono. Il cielo pare chiuso per loro. Questo è un dolore per la tua mamma, perché vedo che, mentre pregano, si allontanano dalla fonte dove risiedono tutti i beni. Qual è la volontà di mio figlio? Padre Nostro, qui es in Cielo, sacrificiato il nome Tu, adveni a tregnum Tu, fiat volontas Tu, a sicurio del cielo e di in Te. Panem nostro un quotidiano da nobis fodi, et dimitte nobis debita nostra, sicurio et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos in ducas in tentazione, e se libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazie a plena Domino, benedicta tu i mori eribus, et benedictus fruttus vera Christi di Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazie a plena Domino, benedicta tu i mori eribus, et benedictus fruttus vera Christi di Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazie a plena Domino, benedicta tu i mori eribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino specum, benedicta Tui, Morieribus, e benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino specum, benedicta Tui, Morieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, grazia plena, Domino, stecmo benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino, stecmo benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino, stecmo benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino, stecmo benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione. Metto i miei piedi nei tuoi, Gesù, per camminare insieme a te con i tuoi stessi passi sulle strade della Palestina, mentre ascolto il suono della tua voce giungere dolce e melodioso al mio orecchio. Io, nel venire sulla terra, veni a manifestare la mia dottrina celeste, a far conoscere la mia umanità, la mia patria e l'ordine che la creatura doveva tenere per raggiungere il cielo. In una parola, il Vangelo. Ma della mia volontà quasi nulla o pochissimo, dissi, quasi la sorvolai, facendo capire che la cosa che più mi importava era la volontà del Padre mio, dei suoi pregi, della sua altezza e grandezza, dei grandi beni che la creatura riceve col vivere nel mio volere quasi nulla, dissi. Perché la creatura, essendo troppo bambina nelle cose celesti, non avrebbe capito nulla, solo le insegnai a pregare, fiat voluntas tua, sicuti in cielo e in terra, affinché si disponesse a conoscere questa mia volontà, per amarla e farla, e quindi ricevere i beni che essa contiene. Padre nostro, che sei nei cedi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Taci oggi, nostro Pai, che li diamo e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci dure tentazione, ma riferaci dal male. Amo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nucti in ora mortis nostri, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nucti in ora mortis nostri, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nucti in ora mortis nostri, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nucti in ora mortis nostri, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nucti in ora mortis nostri, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nucti in ora mortis nostri, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fruttus ventris tu, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fruttus ventris Tui, Iesus. Glorie a Padre, et Filio, et Spiritui Santo. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nostra, vigne inferne, deduc in cielo, momnes animas, preserti millas que maxime, indigent misericordia Tua. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Con le conoscenze e le verità sul vivere nella divina volontà, Gesù manifesta la sua divinità, manifesta come la sua divina volontà operava con la sua umana volontà, manifesta la vita interiore del Verbo incarnato, si trasfigura davanti all'anima per renderla partecipe della sua stessa divinità, per trasformarla e trasfigurarla in sé. E l'anima che vive nella divina volontà non ha timore, ma proclama ed effonde la divinità di Cristo in ogni suo piccolo atto. Il suo stesso essere è la tenda che ella prepara come dimora permanente per Gesù e per tutta la Corte Celeste. Pater nostro è qui e sinceri e santificato il nome Tu, adveni al regno Tu, fiatur l'Otas Tu, asseguiti in cielo ed in terra. Pane nostro un quotidiano donovis fodi, et dimitte nobis debita nostra, siccote nosti dimittimus debitoribus nostris, et ne nosti in ducas in tentazione, se libera nostra mano. Amen. Ave Maria, grazia plena dobbino steco, benedictatui morieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena dobbino steco, benedictatui morieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena dobbino steco, benedictatui morieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tu ii, ebbenedictus fructus, benedictus Tu ii, ebbenedictus fructus, benedictus Tu ii, ebbenedictus Tu ii, ebbenedictus Tu ii, ebbenedictus fructus, benedictus Tu ii, ebbenedictus 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 Tu i Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sicuterati in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. O Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nostra vigna inferna, deduc in celum omnes animas, preserti millas, que maxime indigent misericordia tua. Il canto si chiama Toccami il cuore, il gruppo e il cantiere Kairos, lo chiedono sempre questo canto, ogni volta che l'ho messo, gli era messo Tocca il cuore di molti. Bene. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucharistia nell'ultima cena. Io nel sentire ciò, ossia quanto Gesù aveva detto sul rapporto tra il battesimo e la divina volontà, che è stato oggetto della meditazione del primo mistero luminoso, Io nel sentire ciò dicevo tra me, da qui a poco dirà che la sua volontà è più della stessa comunione, e lui ha soggiunto, ma certo, certo, perché la comunione sacramentale dura pochi minuti. La mia volontà è comunione perenne, anzi, eternale, che si eterna nel cielo. La comunione sacramentale è soggetta a qualche intoppo, o per malattia, o per necessità, o per parte di chi la deve amministrare. Mentre la comunione della mia volontà non è soggetta a nessun impiccio, solo che l'anima la vuole, e tutto è fatto, nessuno può impedire, e può impedirle un sì gran bene, che forma la felicità della terra e del cielo, né i demoni, né le creature, né la mia stessa onnipotenza. L'anima è libera, nessuno ha diritto su di lei a questo punto della mia volontà, perciò io la insinuo, voglio tanto che la prendano le mie creature, è la cosa che più mi importa, che più mi sta a cuore. Tutte le altre cose non mi interessano, anche le più sante. E quando ottengo che l'anima viva è della mia volontà, me ne vado trionfante, perché racchiude il più gran bene che ci può essere, in cielo e in terra. Pater Noster, qui es in Cielis, Sanctificetum Nomen Tum, Adveniat Regnuntum, Fiat Voluntas Tua, Sicuti in cielo e in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Madre a te, in ora pro nobis peccatoribus, nu che ti dora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Madre a te, in ora pro nobis peccatoribus, nu che ti dora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Madre a te, in ora pro nobis peccatoribus, nu che ti dora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Iesus. Santa Maria, Madre a te, in ora pro nobis peccatoribus, nu che ti dora mortis nostre, Amen. Ave Maria! Grazia plena Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Jesus. Ave Maria! Grazia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fruttus ventris tui Jesus. Ave Maria, grazia plena Domino stecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fruttus ventris tu, Iesos. Ave Maria, grazia plena Domino stecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fruttus ventris tu, Iesos. Ave Maria, grazia plena Domino stecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fruttus ventris tu, Iesos. Ave Maria, grazia plena Domino stecum, benedictus fruttus ventris tu, Iesos. Ave Maria, grazia plena Domino stecum, benedictus fruttus ventris tu, Iesos. Ave Maria, grazia plena Domino stecum, benedictus fruttus ventris tu, Iesos. Grazie a tutti.